ben trovati ben trovata o anche ad andrea bosco ospite come facciamo ogni tanto su signora per due ciao andrea ciao massimo e buonasera gli ascoltatori vorrei che mi facessi un sunto e soprattutto un'opinione su quanto sta accadendo alla juve ultima ma non ultima ci auguriamo però ultima la vicenda ronaldo che ci ha visto insomma la vicenda ronaldo ha due aspetti uno voglio essere brutale se cherubini e quell'altro non fossero stati dei cretini fossero messi a parlare per telefono non non sarebbero incorsi in questa situazione perché poi gli arbitri l'arbitrato che sono arbitri anche quelli tre arbitri che a conferma che gli arbitri ce l'hanno sempre con la juventus sistematicamente quelli di campo e quelli fuori dal campo hanno messo la sanzione sia pure di metà dell'importo con 9 milioni e mezzo di euro avvalendosi delle intercettazioni che la procura di torino nell'ambito dell'inchiesta prisma non avrebbe potuto fare per incompatibilità territoriale ma che ha fatto lo stesso avvalendosi addirittura dei troia quindi siccome ormai la giustizia italiana fa schifo lo dico a tanti svegli ma questo non vuol dire che la juventus sia innocente e che non abbia fatto delle cose che magari non doveva fare dico che la giustizia italiana fa schifo perché fanno tutto quello che vogliono poi la gente ne paga le conseguenze giusti o sbagliate che siano però la giustizia italiana non segue le procedure fa delle cose arbitrarie come è stato ampiamente dichiarato anche se tu leggi quel libro terribile di Palamara insieme con San Lussi gli spiegano come funziona la giustizia italiana. Arriviamo alla situazione campo ormai la divisione fra allegriani e antelegriani è sempre più marcata la juventus gioca male perché questa è la realtà si fa il nome di Tiago Motta insomma quale idea hai tu in merito sarebbe il caso di Camerani? Allora io ho l'idea che prima di prendere Tiago Motta ci dovrebbero pensare non una ma molte volte che Tiago Motta sta facendo un ottimo campionato col Bologna che non è una società che è aspettativa di primato non è la Juventus si augura al Bologna di tornare ai fasti di quando vinse lo sculletto giocando uno splendido calcio con Bernardini no? Corone di Haller, Nielsen, Bulgarelli, Fogli insomma questi qua. Però oggettivamente parliamo di pesci diversi rispetto alla quindi Allora Tiago Motta sta facendo bene da un paio di campionati eccetera è da Juventus è l'allenatore giusto per la Juventus io ho personalmente la mia soggettiva un paio di idee ovviamente antitetiche vuoi tornare a vincere subito ti prendi Conte compri a Conte almeno tre giocatori li compri Voresca visto che Rabiot se ne andrà li compri Griezmann considerato che Chiesa probabilmente se ne andrà i compri Ederson da Atalanta visto che un regista prima o dopo la Juventus lo dovrà pur prendere no? e Conte poi è uno che riesce a fare miracoli anche da situazioni complicate come quelle che sta dicendo a Juventus mi interessa vuoi costruire per i prossimi anni con pazienza puntati sui giovani e ti prendi Gasperini fai un contratto di quattro anni hai pazienza Gasperini spreme veramente il succo dai limoni perché dimmi chi avrebbe puntato sui giocatori che ha preso Gasperini due tre quattro anni fa è consapevole che rispetto a Conte che ha già un carattere importante forte Conte rispetto a Gasperini è madre Teresa di Calcutta perché Gasperini poi è uno che manda a fan anche il proprietario come pensà il signor dottor Percassi Ecco ma parliamo anche di dirigenza della Juve perché questa mi sembra veramente distante rispetto alle aspettative dei tifosi Allora a parte Giuntoli che è uno che sa di calcio speriamo che dimostri anche di fare a Torino quello che ha fatto a Napoli perché se poi i prodotti di Giuntoli sono Diago, Diallo che ancora ha giocato cioè non si scappisce che hanno preso uno rotto non sarebbe neanche la prima volta che ho arrivato a spendere i giocatori rotti e questo oggetto misterioso che si chiama Calazzo se poi ci mette insieme anche UEA perché tu insomma hai il quadrato come poi pretendi di sostituire il quadrato con UEA è un panchinasse, spero che era uno da panchina ancora prima che arrivasse se gli affari di Giuntoli sono questi magari anche no ecco finiamo con l'altro gli altri scusami, gli altri non esistono cioè Serrero è l'avvocato di El Cane che ci fa la presidenza della Juventus e gli altri... Andrea c'è qualche ragione? Era Allegri terminata oppure vedi qualche oscuro motivo che potrebbe prolungare ancora per un anno la sua permanenza? Allora a mio modesto parere l'era Allegri è terminata ma non perché il Cane lo voglia cacciare via eccetera perché poi 8 milioni di ingaggiare insomma sono una roba pesante c'è 16 lordi e la Lega ha ancora un anno di contratto secondo me se ne va perché lui non ha più in mano la squadra ci sono sei in sofferenza non solo di Chiesa ma anche di altri e sono evidenti tutti sanno che lui probabilmente se ne andrà fino a stagione quindi come dire mandano giù a mano ma che lui non abbia più in mano la squadra mi sembra evidente almeno da un mese insomma Grazie Andrea come sempre l'ultima proprio ultima entriamo in zona Champions secondo te? a meno che non siano degli imbecilli si è considerato che no viste e che non si siedono un'altra volta come hanno fatto dopo la partita del Meazza anzi più che sedersi dovrebbero sdraiarsi a questo punto perché peggio di quello che hanno fatto nell'ultimo mese non so non si può far peggio ormai è certificato che le squadre italiane alla prossima Champions saranno 5 vorrei anche vedere che non arrivasse almeno al quinto posto grazie Andrea come sempre e buon proseguimento e buon lavoro ciao 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 grazie a tutti